Due canini bianchi che non abbaiavano mai, stufi del grano pasto nella casa del padrone. Fonsero andare per il mondo, forse a cercare guai, approdarono al cipango pronti per la libagione, quando poi trovarono tosto una ragazza soda. Come all'occhi ci rimasero, perché non aveva una coda. Caraglia di una maliarda, anche voi non siete umana grandugiarda, con la coda lunga un metro che vi spunta da lì dietro. Iai, iai, anche voi dite, per quindi lo siete voi pure. Ora intendo perché non pubriacate, siete d'umano anche voi con quel popò di denti che tenete. Portenti, miracoli, campi, fui a dure, alfo a sbafo di legalo. Succa incantesimi, amonetti e talismani, alfo a sbafo di legalo. Mi presento, sono un monaco guerriero itinerante, vendo miracoli, vendo portenti innefottate. Risolvo guai, disinfestazioni, possessioni, esorarcismi e maledizioni. Pertanto ditemi cosa vi affligge e vi risolvo l'afflizione. Serve un filtro per la pomella? Ce l'ho. Medicamento per la cacarella. Ciao. Cavolamo, se ben compresi siete ma vostri econe, vero? Però io ne sogno quello che vi aggrada. Piuttosto, credete voi che conoscete i mostri sovraet naturali di queste lande? Diamine! Per lo prezzo di listino credo in tutto quello che dice. Noi, mo fennete, massimo esperto di demonologia, mostrologia, esoteria e sciatalgia. Manco, divinazione e occultismo. Massimo esperto di scintoisme e di autoerotismo, io so. Con chi credete di avere che faccia? Se volete comperare, comperate. Altrimenti non facetemi spaccare altrotempo. Lo costumidi che la fanno. C'è un uccello. Non c'entrò mai grande sangue dell'orcipelago. Io vorrei acquistare oggetti o incantesimi ampi a uccidere i mostri sovraet naturali. Meglio sarebbe se potessero farli fuori a costo in secola se... ... 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 Grazie.